Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi, oggi è l'8 settembre 2022, oggi è giovedì e quindi ben ritrovati e siamo qua per come sempre leggere i quotidiani, il Carlino e il Corriere e siamo qui per sfogliare i titoli delle notizie più importanti che abbiamo selezionato per voi, andiamo subito a vedere il santo di oggi, oggi in realtà non è un santo ma si ricorda la natività della Beata Vergine Maria, l'8 settembre, il sole è sorto alle 6.39 e tramonterà alle 19.32. Stavo dando un'occhiata a questa immagine che arriva da Skyline, sono immagini che riguardano la panoramica su Fano, è una telecamera nuova che è stata posizionata da quanto ho capito, da quanto posso vedere, non so se è remotata in questo momento da qualcuno o sono dei comandi automatici che questa telecamera prende. Qui in questo momento la camera si è soffermata, siamo un po' contro luce purtroppo, ma vedete qua sotto l'autostrada 14, questo è il quartiere di Sant'Orso, però ecco più di questo adesso non si riesce granché a vedere, però insomma immagino che in altre ore quando il sole non è contro l'obiettivo della telecamera si possano vedere delle belle immagini. Su questa appunto Fano che si sta svegliando, intanto il traffico sì, c'è anche il traffico vedete in A14, uno può darsi una regolata e questo è il cuore della città, vedete però c'è tanto riflesso quindi si vede poco o nulla. Comunque la segnalazione è questa, andiamo adesso a vedere il tempo. Allora cielo irregolarmente nuvoloso per oggi, al mattino previste piogge nelle zone interne a prevalente carattere di rovescio temporale e localmente anche di forte intensità. Poi nel pomeriggio invece non si escludono locali e brevi fenomeni, quindi comunque oggi sarà una giornata di pioggia perturbata, mentre domani rovescio temporali sparsi più probabili nel settore centro-meridionale e durante il pomeriggio, sabato 10 settembre, un po' di pioggia come vedete sulle montagne del pesarese, non si escludono locali e brevi piovaschi pomeridiani, più possibili sul settore settentrionale. Poi le condizioni saranno instabili nella giornata di domenica, poi condizione di tempo buono. Andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino di Pesaro, questa è la fotonotizia del giornale, la guerra degli alberi al parco Miralfiore, il professor Pandolfi si scaglia contro il comune di Pesaro. Il titolo è un virgolettato, quindi parole del professore, immagino che cosa, ma cosa state facendo? Mentre l'assessore Enzo Belloni a sinistra appunto ascolta le parole del naturalista Massimo Pandolfi. Poi c'è la cronaca, eccola qua, malore, medico muore a 27 anni, un malore affano, era appena uscito dall'ambulatorio quando si è accasciato in auto, inutile ogni tentativo di rianimarlo. Spaccata la rivendita Yamaha sull'interquartieri, un Mercedes usata come ariete, sfondano la vetrata e sfuggono, e fuggono, scusate, con tre moto da cross. Altre notizie, sempre dalla prima dell'arresto del Carlino, nel cuore della città di Peso, in Piazza del Popolo, è l'ora delle ruspe, scattano i controlli sulla ditta. Università riecco la normalità, finalmente si torna al passato, a Urbino dunque riprendono le lezioni post-Covid. Per quanto riguarda invece gli abbonamenti degli autobus, per gli studenti senza rate, corre la protesta, quindi abbonamenti senza la possibilità di rateizzare, tutto subito, pagare moneta, vedere cammello, come si diceva una volta, vendemmia, trovare i braccianti, è un'impresa. Questo è il nodo degli stagionali, il problema di chi deve tra poco raccogliere l'uva, ma poi sarà il problema anche per l'oliva, quindi insomma mancano i braccianti, manca la mano d'opera. Sotto invece lo sport, galopata WL di nuovo a quota 100, positivo test contro i Chieti, poi per quanto riguarda il calcio, dilettanti calendari di prima categoria. Il Corriere Adriatico invece, edizione di Pesero, lavanderie, stangata, shock, ormai tutto shock qui. Gli imprenditori aumenta, dicono aumenta tutto, non solo energie e gas, ma anche i prodotti per la pulizia, costi insostenibili anche per l'assurdità di non essere considerate tra le aziende energivore. Mentre la foto riguarda la cronaca, l'auto a riete che è stata utilizzata per sfondare la vetrina e andare a rubare queste moto nella concessionaria Yamaha di Pesero, tre moto sono state rubate, ovviamente più i danni che il resto, ma comunque questo è il resoconto. Poi nelle marche, obiettivo 6%, ora il decreto taglia bollette, parla di Maio e poi Parco Miralfiore, 80 nuovi alberi, sieperi rasa al suolo, mentre da Fano variante, la giunta ora va avanti con le modifiche, parliamo della variante di Gimarra e a Pesero il terminal moderno, l'attuale stazione, quella delle ferrovie, sarà riqualificata. Poi Gnudi con le cooperative torna al pronto soccorso, stasera il primo turno all'ospedale di Fermo. Allora, si parla di, addirittura adesso ci sono esperti, dopo aver ascoltato esperti sui virus, su tutto in più, adesso ci sono gli esperti che ci parlano del caldo e del freddo all'interno della casa e devo dire che è davvero imbarazzante, anche per la mia categoria, leggere certi articoli, non so come si possa pensare di scrivere certe cose, quando addirittura, insomma, si parla addirittura dell'area condizionata che fa dimagrire, piuttosto che ingrassare il freddo che fa dimagrire, delle cose veramente che fanno venire il conatto di vomito, ripeto, mi spiace usare anche questi termini, ma proprio siamo arrivati non alla frutta, non a raschiare il fondo del barile, ma ancora di più, penso che non c'è limite a leggere certi articoli, certe notizie, io non so, spero che ci sia gente che non ci creda a queste cose, che cambi col dito come si faceva una volta, bagnando, anzi no, non si può più fare perché c'è ancora il virus che gira, quindi tac, giri pagina senza stare a perderne anche un secondo a leggere queste cose completamente fuori dal mondo. Intanto, invece, stando coi piedi per terra, Tiziana Petrelli sul resto del Carlino questa mattina ci parla di un nuovo malore che purtroppo ha colpito un giovane medico, siamo a Fano, un giovane medico che si chiama Marco Tiberi, classe 1995, si accascia sul volante e muore. Sciocca Sant'Orso e in città, Marco Tiberi, 27 anni, aveva appena finito il suo turno in ambulatorio, inutile ogni tentativo di rianimarlo, una tragedia inspiegabile che ha lasciato tutti attoniti e ammutoliti, tant'è che ieri mattina molti amici ancora non sapevano nulla, nonostante fossero già passati due giorni. Erano infatti le 19, le 7 di sera di lunedì, quando il 27enne residente a Marotta si è chiuso alle spalle la porta dello studio medico del dottor Costantini, che stava sostituendo per il breve periodo di ferie del noto medico di medicina generale di Sant'Orso. Per il dottor Tiberi, invece, era una delle prime esperienze lavorative, affrontata con entusiasmo, eccetera, eccetera, e a un certo punto un malore improvviso, scrive il giornale, e ancora sconosciuto l'ha strappato a quel sogno che aveva fin da ragazzino. E questa è la notizia che io vi riporto così, perché tanto i commenti li abbiamo già fatti e c'è poco da commentare. Mentre sulla variante ora c'è poco da commentare e naturalmente c'è da stringersi attorno ad un una famiglia che ha perso un ragazzo di 27 anni, ma questo io non lo dico perché non voglio passare da... Quando io leggo queste notizie poi ci prego pure, quindi invito a farlo anche alle persone che seguono il telegiornale e che hanno fede. Variante, ora un vertice con la soprintendenza, invece parliamo di un altro argomento che c'è sul carriero di questa mattina, sulla Valle del Cesano. Un nuovo incontro a breve termine, poi il passaggio in Consiglio Comunale, l'opera va appaltata entro il 31 di dicembre. Quindi Anna Marchetti questa mattina fa il resoconto di quelle due ore e mezza di giunta politica che si è tenuta ieri sulla variante di Gimarra che è stata convocata appunto dal sindaco Massimo Seri, deciso quindi un nuovo incontro a breve termine con la soprintendenza e poi il passaggio in in Consiglio Comunale. Alla fine saranno i consiglieri a prendersi la responsabilità di costruire la strada spendendo 28 milioni di euro oppure a dire no all'opera perdendo i 20 milioni di euro oggetto dell'accordo tra Comune e Regione del 2018. L'altra pagina invece, eccola qua, sempre sul Corriere Adriatico, su questo argomento, cioè sul Corriere Adriatico, variante Gimarra al via le modifiche, le diverse opzioni entro il mese di settembre. La giunta comunale dopo la riunione di ieri, riservo sui costi in più, quegli 8 milioni in più, appunto inferiori, vabbè, intorno ai 10 milioni, inferiori ai 10 milioni di euro, sarebbero più o meno 8 milioni in più, da 20 a 28. Investita in bici, l'altra notizia in basso vedete, insieme alla figlia di due anni grave una mamma, l'incidente sulla rotatoria di Ponte Metauro è intervenuta anche l'eliambulanza. Dunque si parla di questo drammatico incidente stradale, l'altro ieri, poco dopo le 20, sulla rotatoria del Ponte Metauro. Una ciclista fanese di 31 anni ha riportato lesioni di estrema gravità in seguito all'urto contro un'automobile che è stata poi, questa donna è stata portata nell'ambulanza ad Ancona, dove è stata ricoverata in stato di coma. Sulla bicicletta, nel seggiolino porta bambini, c'era anche la figlioletta della donna, la piccolina che ha soltanto due anni, è caduta a terra insieme con la mamma, rimanendo illesa. La polizia locale, intervenuta per i lievi di legge, è riuscita a rintracciare la nonna della bimba e gliel'ha affidata. La nuova passeggiata dell'Isippo comprende anche una piazzetta, presentato il progetto favorito e finanziato da Marina Center. L'opera verrà alla luce nel periodo di primavera, mentre l'altra notizia che abbiamo selezionato per voi questa mattina, pagina 3, vendemmia, non si trovano più braccianti. Molti ci chiedono di lavorare in nero. Anche nel settore vitivinicolo è difficile reperire praticamente i dipendenti. Lo stipendio va tra i 900 e i 1200 euro. Chi ha il reddito di cittadinanza però rifiuta. Ma questa ormai è una storia vecchia e quindi sappiamo, quindi è inutile neanche scandalizzarci perché ormai sappiamo che funziona così, però il problema è, come vedete, che non c'è nessuno che poi raccoglierà l'olio, raccoglierà l'uva, così come poi magari succederà con le olive più avanti. Ecco, in quest'articolo si parla delle varie zone della nostra provincia dove è già partita la vendemmia 2022 e se nonostante l'estate siccitosa sembrano non esserci rischi per la qualità del prodotto, la vera difficoltà invece, come dicevo, è quella appunto di trovare la mano d'opera. E questo è il caso, per esempio, di un'azienda che si chiama Montata di Sant'Angelo Invado dove la raccolta è più tardiva rispetto alla costa e che ha pubblicato un appello su Facebook alla ricerca proprio di personale. Però anche più a valle poi ci sono altre aziende eccetera eccetera che insomma sono in difficoltà. Lo stipendio dice, ma l'abbiamo già visto, ve l'ho già detto, lo stipendio mensile previsto per uno stagionale con un monte di 6,5 euro al giorno oscilla tra i 900 e i 1200 euro. Nella zona del Pesarese facciamo fatica a trovare stagionali per la vendemmia commenta Alessandro Taddei, Presidente regionale della Confederazione Italiana Agricoltori lo scorso anno molti non sapevano che quello che viene guadagnato con regolare contratto viene poi scalato dal reddito di cittadinanza. Ma quest'anno sono molti a chiedere di poter lavorare in nero per non intaccare il reddito. E questo è quindi, scrive Andrea Angelini sul resto del Carlino di questa mattina. Andiamo, torniamo di nuovo sul Corriere perché la notizia della morte di questa fan di Vasco Rossi Daniela, siamo sulla cronaca di Falconare come vedete, ebbene ha colpito anche lo stesso Vasco Rossi che ieri ha pubblicato poi una sua fotografia che li ritrae insieme appunto con la scritta Ciao Dolce Tufi, viene una chiamata così come la canzone della rock star. Qui ci segnalano che Daniele è morto dopo una carambola shock, la carezza di Vasco Ciao Dolce Tufi la rock star dedica una storia commovente su Instagram alla sua grande fan investita a Villanova. Mentre sulla pagina 12, ecco qua siamo sempre sul Carlino, ci sono le foto, come vedete, della spaccata cioè di quel furto che è avvenuto nella notte utilizzando una macchina con una riete per sfondare la vetrina entrare dentro e arraffare quante più motociclette possibili. Insomma non è una cosa semplice da portare a termine, però vedete dalle foto insomma questo è quello che è accaduto tre sono le motociclette, immagino anche moto da cross che abbiano un certo valore che sono state portate via dai malviventi. Questo è successo a Pesaro dove appunto c'è la concessionaria della Yamaha. Mentre litiga con la suocera per una motocicletta, il modello d'epoca donato all'altro genero pace è fatta ma la giustizia procede. Qui si racconta insomma degli strascichi di una lite che poi è finita in tribunale a Pesaro e che il collega Luigi Benelli del Corriere Adriatico ha raccontato questa mattina ai lettori del Corriere Adriatico. Poi si parla ancora oggi di noi, il Carlino non poteva farsi sfuggire questa ghiotta occasione per puntare il dito e cercare di mettere in cattiva luce un po' la televisione anche se è stato tutto sommato buono. Fano TV anche Gabellini si interessò, qui si capisce tra le righe che vuol far intendere che io abbia lasciato soprattutto per motivi economici, in realtà non è così. Ma comunque ognuno racconta la storia e quello che vuole e che poi sta a voi a trarre le conclusioni. Ma comunque Claudio Gabellini, ex presidente dell'Alma, che è titolare anche di un'emittente televisiva che è TVRS dagli Stati Uniti, parla di questa cessione della televisione. Perché non l'ha comprata lei? Insomma risponde Gabellini, dice la sua. Poi la situazione invece, e qui parla invece Franco Magnanelli che sta guidando il traghettamento dell'emittente, l'avvocato che dice la situazione sotto il profilo finanziario non è drammatica ma aveva bisogno di un intervento di sostegno ed io penso che nel giro di un paio di mesi al massimo tutti i passaggi verranno fatti ma Marco Ferri resterà come consulente fino a quando non verrà individuato un nuovo direttore responsabile, filo conduttore di questa operazione Gino Bartolucci presidente della cooperativa Tre Ponti che attraverso la Proloquo ha l'incarico di organizzare le manifestazioni che si svolgono in città credo che il primo contatto per mettere in piedi questa accordata sia stata Bartolucci per il semplice fatto che Fano TV aveva la sua sede alla cooperativa Tre Ponti c'è un'inesattezza che, anzi ce ne sono un paio di inesattezzi su questo articolo ma non sarebbe può fare una colpa, il giornalista non può sapere tutto però credo che sia importante, l'ho evidenziata perché qui scrive Fano TV nasce nel 2005 e questo è vero, fine 2005, 19 dicembre 2005 con la denominazione Voce Cristiana Fano TV, va bene e piccole quote erano nelle mani della curia che poi è uscita ecco questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra non è assolutamente così, la curia di Fano, la diocese di Fano non ha mai avuto nessuna partecipazione di nessun genere con Fano TV né ieri né oggi, quindi non l'ha mai avuta ecco la curia non c'entra nulla, non ha mai centrato nulla non ha mai dato soldi a Fano TV non ha mai avuto voci in capitolo su Fano TV poi c'è anche quest'altra cosa che dice Curia che raccomandò la cessione di una frequenza a TV 2000 di Urbino cosa poi è avvenuta, anche questo non si capisce cosa voglia dire però anche questo non corrisponde al vero Curia che raccomandò la cessione di una frequenza a TV 2000 intanto è Tele 2000, TV 2000 è quella di Roma, della CEI non si parla di frequenze cedute in realtà è un po' diverso, cioè all'inizio ma adesso non posso starla a raccontare qui ma semplicemente Tele 2000 ci ha venduto ci ha ceduto un ramo d'azienda, una piccola frequenza per poter avviare l'attività ecco questo è successo ma tutta questa cosa di TV 2000 con nomi che non esistono cioè nel senso che non sono corretti perché è Tele 2000, non TV 2000 TV 2000 è invece la TV della CEI della conferenza episcopale che tra l'altro, lo dico per quelli che si affrettano i tutologi a scrivere su Facebook dicendo che noi siamo finanziati dal Vaticano che siamo finanziati dai preti, eccetera ecco, neanche la conferenza episcopale italiana ha mai versato un soldo nelle casse di Fanotv purtroppo lo dico perché tante volte nelle riunioni romane alle quali io ho partecipato per 16 anni fino a quando poi non siamo andati non abbiamo fatto le riunioni a distanza molti colleghi editori di Ispirazione Cattolica si lamentavano proprio con la conferenza episcopale italiana perché dicevano ma come date tanti soldi per fare la pubblicità dell'8x1000 alle televisioni nazionali ma perché non fate pubblicità anche nelle TV locali e quindi ci pagate noi facciamo la pubblicità dell'8x1000 e nello stesso tempo ci aiutate e ci sostenete ma è successo quindi per dire un po' com'è la situazione ma comunque ecco, al di là di questo ma ripeto l'articolo c'è ci sta e va bene ma quello che volevo dirvi ecco, questa imprecisione che secondo me è fondamentale lo dico anche perché è giusto mettere dare a Cesare ciò che è di Cesare la Curia non ha mai avuto nessun tipo di quota né di partecipazione all'interno di Fano TV bene siamo arrivati in fondo Fano ricorda Iacchini il presidente manager e l'altro articolo che volevo leggervi anche se l'accendono fatto ieri l'articolo di Silvano Clappis l'ex presidente del Fano Iacchini con lui l'alma conobbe le migliori stagioni dopo Gentili con giocatori del calibro di Cornacchini e degli ex di Serie A Mozzini e Gorin e con questo noi ci salutiamo qui grazie per averci seguito appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci aci a a a a a a Grazie a tutti.